Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C berlina. Fiume che vai, rifiuti che trovi, se da un lato il tratto che attraversa l'area di cupamacchia, il fenestrello è stato preso di mira dai furbetti lanciatori di sacchetti di immondizia in azione dall'alto del ponte della Bretella, dall'altro lato, sempre sulle sponde del fiume, a ridosso di parco Santo Spirito e Manganelli, disseminati e occultati nella vegetazione di via Palombi, la strada di collegamento per Ione-Santo Maso, a pochi metri dal corso d'acqua che bagna il polmone verde, abbiamo rinvenuto oltre bidoni e bustoni contenenti sostanze sospette, anche scheletri di mobili, pneumatici, giocattoli, residui alimentari, divani, scarti di auto ed elettrodomestici. In alcuni casi, considerando che i rifiuti giacciono da tempo, nell'indifferenza generale, gli scarti di mobili e i pezzi di auto abbandonati sono diventati quasi parte integrante radicata della macchia a ridosso del fiume, un tutt'uno con la vegetazione, rifiuti coperti da arbusti, trampicanti e muschio. In attesa della messa in sicurezza del fiume, sarebbe forse utile bonificare o magari ripulire le aree più inquinate del fenestrello, un corso d'acqua sempre di più presso di mira dagli incivili, che raggiungono le sponde con furgoncini attrezzati e carichi di rifiuti da sversare nelle acque. Un'oasi, come quella di via Palombi, che ora giace nel degrado più totale. La morte del fenestrello è sotto gli occhi di una comunità impotente. Grida comunque vendetta.